Ma questa buca scavata per benino, oh baby, facciamo vedere le dimensioni, è un proiettilone, non so di che cazzo sia, la punta è andata, si non è esploso, sicuramente esploderà mentre stiamo facendo il video, che cazzo è non lo so, bella bestiolina, stimoliamolo, stimoliamolo, magari schioppa bene, addio quanto peso, madre di dio, ha peso almeno 10 kg, che puttana, hai una carpa?